Tutti e due balli Amore Capoeira e Shock sono loro coreografie e i tormentoni signori non mancano mai li fanno tutti e il 90% delle coreografie sono le loro. Shock è il tormentone 2018 di Claudio Ballantino della CM School. Ci siamo, siamo pronti per Shock! C'è la bimbo di la testa qua dal tempo e la vite fanno tutti l'amorato. Prima scegliere un bel cuore e poi metterci lo sguardo, ci vorrebbe il ballerino dell'anno. Prima scegliere un bel cuore e poi metterci lo sguardo, ci vorrebbe il ballerino dell'anno. Ti guarda sui quattro e tu L'amore mio Ti guarda Così lo so che Pensa Si Pensa Ma senti come suona il mio cd dell'anno Lo metteranno tutti quanti i miei dici E' stratosferico una roba da far danno E se lo falli non vorrei fermarti mai Ma senti qui che sbaglio il mio cd dell'anno E non facciamo un applauso E appena uscite tutti quanti già lo sanno La gente in pista baila, 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 baila E' successo Non ci diranno Ti guarda Senti qualche cosa E' meglio rimarando E' una cosa E tu non sai Ma senti qui che sbaglio il mio cd dell'anno Ma senti qui che sbaglio il mio cd dell'anno Ma senti qui che sbaglio il mio cd dell'anno E' meglio rimarare E' meglio rimarare E' meglio rimarare E signori, CM Dance, l'applauso forte, se lo meritano veramente tutto, signori, sono stati bravissimi. E vi ricordiamo che li potete trovare sia su Facebook che su YouTube come Claudio Ballantino. Claudio Amici Ballantino, eh! Grazie a tutti!